bella ragazzi allora oggi ho cambiato il nome mine crater sono mine crater ok oggi sono tornati sono tornati nella villa ok allora qua adesso ho un po' di cose qua la miniera l'abbiamo fatta una specie di miniera ok eccola qua dobbiamo prendere un po' con le torce boh questa cosa la si prendiamo ok prendiamo allora andremo a vedere se le nostre coltivazioni ok andiamo a un po' di frutti questo qui è un po' di frutti e quello è molto pesante ok 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 però ho deceduto poi io vorrei meno un po' di quella carissima che entra è una è una che è una è una che è una è una che è un po' di ok 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 capiamo tutto per bene mamma mia ok mamma mia un salvataggio 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 insomma mamma mia andai ok 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 allora ..se lo facciamo esplorare come è un video e em e 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 una pala e oggi c'è un laggio desertico ma di certo c'è del carbone che fatemi aprirlo no ok 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 allora il mio disco è con lui mi dispiace una nera va vabbè fanno bene ah non 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 potremmo capitare finalmente che un po' di salchie nei me un po' in un po' sh la io miglioro io ho un po' per il punto di vista adesso che l'inchioste allora non vado a dormire si deve aspettare un attimo ok 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 andiamo pure a mandare andiamo affetta bene anzi domani entriamo un attimo all'esplorazione perché ti voglio un milagro perché qua è invivibile a 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 più difficile da fare a 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 per sicurezza non so quella di pietra non si sa sempre cos'è sto cosa ok sarò forse tipo io ignorante della cosa più rara del mondo più dei diamanti non lo so comunque pure tipo è facilissimo trovarlo e sono l'unico per me altro carbone altro carbone quanto carbone più un diamante con carbone i a ok c'è troppo carmone ok adesso lo dovete aspettare come si chiama linda ok come si chiama linda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.